Ciao a tutti! Platone ha detto che l'esercito umano non è libero fino a che ha pezzi. E qualcuno ha chiesto se la hipnosis non verba può mettere pezzi? La risposta è sì! Puoi mettere pezzi perché ti porti le persone al reale, a chi realmente sono. E le persone, in qualche modo, ottenendo la natura non verba, cambieranno. Grazie e ciao a tutti da Guernsey, in uno dei canali dove sono ora. Ciao a tutti!